Facevo la quinta elementare, giravo per il mercato alla ricerca di qualcosa che mi potesse piacere, pur non avendo soldi. Vidi un vestito rosso, mi piaceva molto. Lo giravo, lo rigiravo, fino a quando l'uomo che piegava le magliette mi disse vuoi provarlo? E io dissi non ho soldi. E lui continua a ripetere dai provalo. Se ti sta bene te lo regalo. E io pensando al vestito sali sul camper, mi misi dietro una tenda e provai il vestito. Arrivo lui, che mi iniziò a toccare. Io rimasi ferma, immobile, non potevo fare niente. Dopo un po' mi diede il vestito così e mi disse non dire niente a nessuno. Questa è la prima volta che lo racconto.